Il costume da alieno, indossato per anni da Robin Williams nella fortunata serie televisiva degli anni 70, Mork & Mindy, va all'asta. E' questo il ruolo che ha lanciato Robin Williams, spiega Brian Chains, responsabile dell'asta. All'epoca il suo era un ruolo da comico, ma il personaggio ha lanciato l'attore e l'ha fatto conoscere al grande pubblico. Ogni giorno entrava in tutte le case degli americani. L'asta avviene proprio a pochi mesi dal suicidio dell'attore americano Robin Williams avvenuto a metà agosto. Tutti adoravano Mork & Mindy, aggiunge Brian Chains, e questi costumi sono oggetti importanti, indossati in tutti gli episodi.